Con oggi si conclude una prima fase di un lavoro molto importante che è stato quello di organizzare dei momenti di confronto e soprattutto di formazione per i quadri dei comuni sul tema dei finanziamenti europei. I finanziamenti europei spesso e volentieri sono una sorta di chimera, tutti ambiscono ad averli però pochi sono quelli che lo raggiungono. Noi ci siamo resi conto come Anci Lombardia che dobbiamo recuperare un gap rispetto al passato, troppi pochi sono i finanziamenti che riusciamo a convogliare in Lombardia, questo per tutta una serie di ragioni, non ultimo il fatto che forse all'interno delle nostre amministrazioni comunali non c'è stata sufficiente diffusione culturale su come approcciare il tema, soprattutto i comuni più piccoli, quelli che hanno anche più bisogno di altri di avere un sostegno economico non sono oggettivamente in grado di poter affrontare la complessità di una procedura come quella che viene richiesta dalla comunità europea per quanto riguarda i finanziamenti. Per questa ragione abbiamo organizzato questi momenti formativi, oggi arriviamo a una conclusione, ma non è la fine del percorso, nel senso che proseguiremo anche nei prossimi mesi con un'azione che dovrà sempre essere più incessante e soprattutto dovremo fare in modo che i comuni tra di loro cooperino per fare in modo che la presentazione dei progetti possa risultare alla fine vincente.